È stata la Juventus a vincere il torneo di calcio Beppe Viola nella finale giocata oggi contro il Verona allo stadio di Via Pomario ad Arco. Nel tardo pomeriggio la premiazione al Casinò. Sentiamo ora il commento di Nallo Morandi. La Juventus con un gol di Arras, del sardo Arras nel finale, si è imposta nella 44esima edizione del torneo internazionale giovanile riservato alla categoria Lievicita di Arco Beppe Viola. Lo ha fatto al termine di una partita che peraltro è stata molto equilibrata perché il Verona, il suo avversario in finale, ha dimostrato di aver meritato questa chance con un torneo decisamente in crescendo. Partito in sordina, il Verona si è fatto apprezzare soprattutto per il gioco espresso sia in semifinale che in finale. Tant'è, tra le altre cose, che è proprio del Verona quello che la giuria ha definito il miglior giocatore del torneo, il terzino fluidificante di sinistra, l'esterno basso come si dice oggi, che si chiama Badan, Andrea Badan. È un ragazzo che potrebbe avere dell'avvenire, un piede molto educato, fisico discreto e buona corsa. Il capogononire del torneo invece era nell'altra squadra, è stato il numero 7 della Juventus Fabio Morselli, che è stato anche lui in lizza fino all'ultimo per raggiudicarsi il titolo di miglior giocatore del torneo. Della Juventus c'è da dire che era priva oggi di 4 nazionali EP3, ai quali aveva dovuto rinunciare prima della partenza di questo torneo per l'Under 17. Comunque la squadra di Felice Tufano ha supportato con disinvottura queste assenze e ha chiuso un torneo in bellezza dopo che l'aveva cominciato veramente male, come avevamo avuto modo di sottolineare giovedì scorso, dopo una partitaccia veramente non certo da favorita del torneo con il Napoli. Così i bianconeri bissano il successo dello scorso anno, mentre il Verona, che si era imposto nel 2013, ci è andato abbastanza vicino, perché con un paio di contropiede, salvati da miracolose uscite del portiere Lubbia, poteva anche capolgere l'esito dell'incontro. Grazie. Grazie.